A Fossoli, erano tutti russi, i tedeschi li avevano portati lì, erano più di 250-300 e li abbiamo con i GAP e i partigiani di Modena, li abbiamo circondati, li abbiamo portati in massa in montagna dopo ha pensato il comando piazza, hanno formato i tre ufficiali, c'erano tre ufficiali di cui poi uno è diventato Modena a nome di battaglia La bassa reggiana ha avuto anche un guaio perché uno di quei russi che è stato preso là nel campo di Fossoli era scappato di montagna, era andato a finire nella brigata nera e siccome lui conosceva nella bassa reggiana perché era stato ospite di case, come prigioniero a lavorare e l'hanno entrato nella brigata nera e ci andava a indicare le case dove era stato e le hanno bruciate tutte Dopo lui, siccome veniva a reggio qua il comando, due staffette nostre sono riusciti a portarlo fuori una sera promettendoci l'impossibile è stato fatto fuori per non tenerla troppo lunga